Per parecchio tempo, tu devi allenare corridori che guadagnano milioni di euro, che sostengono un sistema. Perché per quanto diciamo, per me, filosoficamente, lo sport ad alto livello è spettacolo. E dietro a questi che pedalano e che vanno forti ci sono famiglie. Non so se qualcuno ha visto, io l'ho visto una monografia su Sky Sport di quel grandissimo, perché per me era uno grande, però è diventato grandissimo allenatore. Che adesso è allenato a Napoli? Ancelotti. Ancelotti. Ancelotti conclui, dice, io sono il manager che gestisce le risorse di una mega industria. Perché che questi signori giochino bene calcio, siano performanti, ci sono, c'è l'indotto che c'è in questa industria, io sono un manager e devo fare uso cosciente delle risorse. È fantastico. A me è capitato parecchio, io parecchi dei miei corridori passo il tempo e dire, senti, potremmo migliorare di una virgola. Questa virgola potrebbe fare la differenza, ma il rischio dell'aumento in questo momento potrebbe anche farti tornare indietro. Quindi che famo? Lascia la virgola. Lascia la virgola. A un certo momento, quando sei in condizione, ti viene da fare, no, lascia la virgola, perché c'è molto rischio, c'è molto rischio di passare l'overtraining in pochissimo. Quindi mi è capitato, mi è capitato di gestire queste persone. Quindi io faccio una scissione chiara. Performance e prevenzione, salute. Prevenzione, salute. Quindi le mie proposte sono sempre doppie. Performance e prevenzione. E in questo io sono maniaco. Lui mi ha detto che aveva un formicolio. Lui dice, non è niente formicolio. Io mi incazzo come una bestia. Dimmi tutto, anche tu dimmi tutto, perché dalla mia posizione, se tu sei, hai un formicolio. Questo è neurologico, porca puttana. Non è normale. male. Poi andiamo ad indagare, poi saltano fuori le cose. Non è niente di grave. Lo sistemiamo. Però, prima la salute. Quindi, chi mi ha domandato il core training? Il core training è, per me, ciò che mi aiuta a prevenire gli infortuni che possono accadere per l'uso di un mezzo che mi vincola a fare una certa roba che non rispecchia la mia anatomia. Io dovrei avere dei pedali che mi consentono di fare così, per rischiare la mia anatomia, per fare in modo che il mio ginocchio lavori bene. Non è possibile fare questo. Cioè, posso fare così. Non è possibile. E io sono vincolato a fare qualcosa. Se corro a piedi, i miei piedi andranno ad appoggiarsi dove vogliono loro. Cioè, non dovrò tenerli così. Perché se io corro e li tengo così, prima o poi, in qualche modo, la mia anatomia si rivelerà. Perché naturalmente è questo. Quindi, prevenzione. Il core training. Cosa significa il core training? Chi lo sa? All'amento del core. No. All'amento del core si fa così. non si fa così. Core ha a che vedere con un grandissimo muscolo, un grandissimo muscolo che è molto profondo, che sono i muscoli del pavimento pellico. Che funzionano così, in questo modo. Così. Sono i grandissimi stabilizzatori di tutto il corpo. Sono i muscoli che gestiscono gli sfinteri. Questi muscoli sono muscoli striati e scheletrici. Cioè, non sono muscoli lisci. Quindi, possono essere allenati. E ti danno il senso della della stimolazione propriocettiva. Noi nasciamo e cresciamo un terreno piatto. Biologicamente, biologicamente, facendo questo, non stimoliamo la propriocettività. Camminiamo fin da piccolini con le scarpe. Quindi, già abbiamo tolto l'80% della propriocettività. Quella roba che sentiamo sotto i piedi. I masai non hanno nessun tipo di malattia articolare né alle ginocchia, né alla schiena, né da nessuna parte. Camminano sempre a piedi nudi, su terreni sconesi. Questa informazione, che arriva dal basso, va a stimolare tutto. Quindi, tutte le catene sono giuste. Quindi, i muscoli che si contraggono sono in armonia. Noi facciamo tutto il contrario. Noi facciamo tutto il contrario. Ecco perché si rende necessario fare una stimolazione dal basso verso l'alto, in modo tale di acquisire quella stabilità. In bicicletta, poi, io sfondo i muscoli del movimento pelvico sul cellino. Io li sfondo sul cellino. E questo è un grande problema. E questo è un grande problema. Ok? Quindi, gli esercizi di core training, che adesso ne faremo un po' così prima di mangiare, così li facciamo fuori, sono esercizi che mi stimolano. Non sono esercizi di grandissimo carico. Non sono di grande carico. Però mi stimolano a mantenere questo equilibrio. Io sono in piedi. È impercettibile. È impercettibile. ma per stare in piedi. Praticamente sto perdendo sempre l'equilibrio in avanti, indietro, a destra e sinistra. Il mio sistema progettivo sta correggendo, autocorreggendo, come quando noi guidiamo. facciamo piccolissime correzioni per tenere la macchina. Allo stesso modo, se metto una situazione che mi costringe di più al ritornare, sto stimolando. Quindi lo stimolo allenante per il core training è perdere un po' l'equilibrio. Fare degli esercizi in situazioni in cui l'equilibrio non è tanto stabile. Tutto chiaro? Questo non serve per migliorare la performance, anche se in situazioni di forza avere un core bello saldo migliora l'applicazione della forza. Perché? datemi una leva, vi sposterò il mondo. Se ho un buon punto d'appoggio, posso avere la leva più potente al mondo. Ma se c'è un punto d'appoggio debole, non funziona. Se invece da un punto d'appoggio saldo, allora sì la leva funziona. Ma non è l'obiettivo fondamentale, ma l'obiettivo fondamentale è riacquisire un equilibrio interno che tiene lontani i rischi di infortuni. E il ciclismo, diversamente da tanti altri sport, non comporta rischi, non comporta infortuni intrinseci, a meno che non cadete. Il problema è legato a questa ciclicità, a questa ciclicità vincolato. Questo è il problema più grande. L'altro problema è quella tendenza alla ricerca della performance attraverso il posizionamento in bicicletta. Che se non rispecchia la mia anatomia può crearmi problemi. È vero che io devo stare in un certo modo, è vero che, è vero che, ma è vero che io me lo posso permettere questo? È vero che me lo posso permettere? Non è detto, non è detto. Cioè, dovrei avere un'attacca e vedere come sei messo di ricette. Non è tanto facile. Grazie a tutti.